di che cosa parleremo oggi parleremo di l'hai visto l'ultimo video francesco si devo dire che è andato abbastanza bene sono molto felice poi mi sto divertendo ho trovato un nuovo modo da quando lo studio nuovo la camera nuova un nuovo modo di lavorare sul canale perché vedete anche dopo due anni e mezzo uno capisce delle cose quando cominci non sai mai bene com'è poi pian piano inizi a vedere a trovare il tuo modo di comunicare penso che adesso l'abbiamo trovato lì già non l'hai ancora visto vedi lo dopo adesso stai con noi nella diretta nell'ultimo video parlato di procrastinazione questa parola stranissima che ormai è diventata molto conosciuta cioè significa rimandare le cose ho delle cose da fare o dei compiti da svolgere delle task sulla mia to do list ma che faccio rimando rimando proprio il momento dell'inizio e la procrastinazione inizia anche la mattina presto quando squilla il telefono la sveglia e uno che cosa fa snood sposto la sveglia di dieci minuti lo fate qualcuno di voi lo fa una volta due volte tre volte carlo perdonami ma per contattarti in privato c'è un indirizzo email sul tuo canale sì c'è il mio sito internet te lo scrivo qui che www.carloloiudice.com e da lì trovi tutto quello che ti serve insomma l'email puoi prenotare anche una sessione esplorativa gratuita lì trovi tutto quindi è il modo più facile dicevo la la sveglia per esempio già la mattina no c'è questa abitudine di spostare la sveglia addirittura c'è gente che si mette ci sono persone che si mettono 45 sveglie stefania dice io sono campionessa del procrastinare che cosa procrastini che cosa quali sono le tue azioni di procrastinazione procrastinazione che cosa fai va bene francesco è veramente il male del secolo diciamo negli ultimi forse 20 30 anni ma forse anche di più è che blocca molto la nostra produttività creando poi frustrazione cioè devo svolgere dei compiti ecco vediamo come funziona un po ho delle cose da fare abbiamo detto mi sono fatto una to do list una lista di cose da fare ma anziché passare all'azione quindi dare inizio all'attività inizio a fare qualcos'altro vado a farmi un caffè non lo so inizio a scrollare un poi i vari video di facebook no guardo youtube inizio a guardare tutti i video spero i miei però magari vedete anche altri video giustamente anch'io vedo video di altri inizio a guardare video inizio a rimandare il momento di inizio del lavoro lo rimando lo rimando lo rimando fino al punto che la procrastinazione diventa quasi cronica e sono quelle azioni che interpongo tra me e il compito che dovrei svolgere voi quali azioni di procrastinazione fate stefania tu che sei una campionessa che cosa fai per esempio i social media tirano molta attenzione sapete che loro sono creati in questo modo proprio per catturare la nostra attenzione nel modo in cui sono fatte le app colorate le notifiche i suoni che arrivano il fatto che ogni social media ha un interesse quello di farti stare più tempo possibile sul social media stesso quindi se sei su facebook facebook non vuole che tu esca da facebook se sei su youtube youtube non vuole che tu esca da youtube quindi ti propone continuamente video in base a quelli che sono poi i tuoi interessi e questa diventa un'azione di procrastinazione incredibile perché il tempo passa senza che noi ce ne accorgiamo adoro fare le liste di cose da fare però procrastino nel leggerle aiutatemi allora vediamo il caso di stefania perché questa è un po una live con il coach quindi possiamo fare una sessione di life coaching un po aperta chiaramente io penserei bene a come fai le le tue to do list quanto sono lunghe quante cose ci metti perché se la to do list è troppo lunga è troppo ambiziosa e la tua flight or fight response cioè il tuo meccanismo della paura scatta cioè guardo questa to do list infinita e dico dio non riuscirò mai a fare tutto questo forse la soluzione potrebbe essere la butto lì se questo è il tuo caso di fare delle to do list più corte settando le priorità cos'è davvero urgente cos'è davvero importante da fare capire questo prima di tutto evitare quindi rimettere 50 cose ma metterne cinque 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 da fare però con il orario di inizio e di fine devo pulire la casa dalle 10 alle 11 dalle 10 alle 10 30 tra i miei video ne trovate uno ma ne rifarò uno nuovo su questo tema visto che sto anche rifacendo un po i video che si chiama il metodo pomodoro che un metodo per l'efficienza cioè per la gestione del tempo e che può aiutarvi a fare le to do list guarda sono tre anni che convivo e fatichiamo nel dialogo e cosa ha pensato lui di dare il bianco in un'altra casa invece di dedicarsi tempo non ho capito bene questa cosa di dare il bianco in un'altra casa vuol dire che ha pittato o è un modo non ho capito bene che cosa intendi quindi fare to do list non troppo lunghe settando le priorità quello che è importante fare subito le deadline no quelle le devo ovviamente fare prima e non posso nemmeno pretendere di mettere troppi compiti complicati tutti in un giorno se qualcosa posso spostarla nel calendario in un altro giorno meglio e stabilire giustamente stefania quello che ti dicevo prima i tempi perché quando metto un tempo cioè alle 10 faccio questo dalle 10 alle 10 e 30 dalle 10 e 30 alle 11 e 30 faccio questa cosa in questo quarto d'ora faccio questo paolo le pause faccio pausa dalle dall'una alle 2 e ci puoi anche mettere alcuni elementi di procrastinazione le email apro le email tre volte al giorno guardo facebook a quell'ora lì da quell'ora a quell'ora non è che non dobbiamo stare sui social media è quasi impossibile ed è difficile per molti sono strumento di lavoro per me sono diventati strumento di lavoro in questo momento più che mai stiamo usando adesso un social media youtube è un social media a tutti gli effetti molto bello a mio parere però un social media ecco dedicare degli slot di tempo può aiutare a non procrastinare perché perché meno random lo svolgimento della mia giornata e se ci metto dentro anche quelle azioni di procrastinazione che posso individuare riesco a fare una schedule anche di quelle posso aumentare la mia efficienza il risultato è che poi mi sento meglio perché a fine giornata ho portato a termine dei compiti e dopo un po questo diventerà un'abitudine diventerà il tuo modo di lavorare evitando le ansie perché poi alla fine che succede magari sefania non so se questo è il tuo caso che ti ritrovi con tante cose che non hai fatto e che dovevi fare e senti la pressione del tempo il tempo non mi basta mai non ho mai tempo non è che non hai tempo molto spesso lo gestisci male il tempo te lo dico anche per mia esperienza io ho gestito male il tempo tante volte e ancora adesso sto imparando a gestire meglio il tempo anche adesso mi ritrovo con delle difficoltà a volte troppe cose da fare e tutte insieme e allora devo imparare ancora fare dei calendari che che siano più congeniali alla mia vita mi lascia a guarda sono tre anni con me allora e fatichiamo nel dialogo cosa ha pensato lui di dare il bianco in un'altra casa invece c'è che ti lascia ma perché scappare tutto e qui entriamo in un tema che è quello della della comunicazione di coppia e adesso non conosco il caso specifico però se ci sono dei non detti è il caso forse di dirseli è il caso anche qui di dedicare un tempo preciso alla comunicazione anziché buttarsi battute e spesso anche insulti sparsi durante la giornata o durante incontri fugaci sì sì vabbè 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 ma guasta se ho capito ho capito anche se che fare questo sedersi al tavolino per un'ora e dirsi tutto senza insultarsi senza rivangare il passato capendo se c'è la possibilità per un presente o per un futuro mi sento di dirti questo ripeto non conosco il caso specifico quindi devo andare un po per schemi che conosco in base all'esperienza con i miei clienti allora sì la gestione del tempo è uno dei miei casi diceva giustamente stefania gianluca ci dice aspetta continuo a rispondere a ele sai che che hai centrato sì è il è la cultura del non detto del sai il famoso avrebbe dovuto capirlo io faccio sempre l'esempio marito moglie la moglie che dice avrebbe dovuto capirlo no il marito poi parli col marito e dice che cosa il marito non l'ha minimamente visto tra l'altro ognuno di noi ha un linguaggio nella relazione nell'amore no c'è chi lo manifesta con i regali chi con chi facendo dei servizi all'altro aiutando l'altro chi col dialogo ecco se questi linguaggi non sono chiari non comunicano tra di loro e non vengono compresi io cerco di fare un bel gesto per l'altra persona l'altra persona magari non lo nota o magari lo apprezza ma non esprime l'apprezzamento di quel gesto io ci rimango male io ci rimango male e non esprimo il fatto di esserci rimasto male l'altra persona non recepisce il fatto che io ci sia rimasto male vedete quanti non detti ci sono anche tra amici anche nelle relazioni tra amici cercare di non lasciare i non detti può essere una buona soluzione magari è tutto recuperabile mi sembra di capire che ci sia un sentimento almeno da parte tua lì in quella relazione no gianluca dice mica è facile stare sempre sui binari però sei bravo a stare sui binari ci provo ci provo ci riesco abbastanza non mi lamento non mi lamento ed è sempre curioso il rapporto col tempo poi ci sono dei momenti belli devo dire io amo il mio lavoro il mio lavoro e questo comunicare con la gente un modo strano nuovo di comunicare mi manca il teatro non lo faccio da un anno ma a luglio si riprende fortunatamente e quando si inserirà anche il teatro dovrò rivedere anche i tempi perché poi significa viaggiare significa stare in giro quindi come gestire tutto questo lo scopriremo strada facendo a proposito dei pomodori ogni volta che faccio qualcosa metto da parte una molletta del bucato e alla sera le conto soddisfatta ma questo è questo è curioso ed è interessante anna maria sai non ci avevo pensato la molletta del bucato come che mi serve per per contare le azioni a fine serata che ho fatto i famosi check per questo si fa la to do list perché poi vicino ci metto un check 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 and celebrate altra cosa importante per vincere la procrastinazione è quella di celebrare devo imparare a celebrare a dirmi bravo a dirmi wow oggi ho fatto tutto questo oggi sono riuscito a fare tutte queste cose qui è importante celebrare aprite una bottiglia di vino buono quando raggiungete un buon gol condividetelo con qualcuno il successo anche questo è importante perché diventa un momento di di festa e per il cervello è un po come si fa con i delfini no che li si dà la ciughetta o con i cani quando ti riportano dietro la pallina un po pavlov no gli dai il biscottino funzioniamo un po allo stesso modo imparo a celebrare imparo a dirmi bravo costruisco la mia self confidence quindi contare le mollette e un buon metodo mi sembra semplice ed efficace luna anche love coach buonasera sì oddio l'amore che parte della vita forse una delle parti più importanti si manifesta in tanti modi diversi nelle relazioni nelle amicizie nel lavoro in quello che si fa nell'arte e quindi il life coach love coach ci sta ele dice vero qui quando si tocca il punto si scappa si urla uff che difficile a volte parlare si bisogna risettare il il codice della comunicazione perché urlare non porta a nulla se si lascia il freno all'emotività si comincia con gli insulti si comincia con si discute per aver ragione questa è un'altra cosa si discute per aver ragione non per trovare una soluzione invece si dovrebbe cercare di trovare delle soluzioni per quello che è possibile c'è anche da dire che le relazioni contemplano il mistero non è che tutto debba essere detto ma nel conflitto sì forse il caso di dirle le cose di provare a metterle in parola metterle su un tavolo e condividerle in qualche modo buonasera lisa lì già si dobbiamo celebrare molto importante per ognuno vero sì gianluca dice tipo ora dovrei lavare i piatti che faccio procrastino sto con voi o lavo i piatti e depenno procrastina stai con noi gianluca e come c'era c'era la diretta le sette e mezza dai dai trompo vi lascerò liberi non è che vi tengo tantissimo oppure puoi provare a lavare i piatti e guardare la diretta magari col telefono non lo so io a volte riesco a farlo lo metto sulla mensola lì e quindi mentre lavo i piatti continuo a guardare qualcosa poi magari un piatto lo lavo cento volte però e questo è il famoso problema del multitasking lo sapete che non siamo multitasking non riusciamo a fare due azioni complesse contemporaneamente soprattutto gli uomini starete pensando due azioni complesse contemporaneamente non si riescono a fare quindi se un lavaggio semplice ci sta se un lavaggio di quelli complessi o guardi youtube o lavi piatti io addirittura se ascolto audiolibri devo stare attento perché non riesco a volte ad ascoltare l'audiolibro soprattutto se in inglese quindi mi richiede un po più di attenzione e a svolgere un'altra attività mi devo fermare l'italiano è chiaramente più semplice dipende dal libro non dipende dal libro non puoi lavare i piatti con il telefono vicino è verità l'avevo detto lavare i piatti con il tempo ma magari al computer magari ha tutta una postazione anche lui come fa tor pion dice ciao potresti fare qualche altro esempio di auto celebrazione fattibile non bevo e sì chiaro puoi mangiare un po di cioccolata puoi non lo so comprarti qualcosa però importante celebrare davvero tra l'altro è molto comune e quindi questo ne abbiamo parlato nel libro nel video sull'autosabotaggio no non dirsi grazie e non accettare il complimento qualcuno prima aveva detto ti sta bene lo studio qual è la risposta che molti avrebbero potuto dare o anch'io anni fa avrei detto questa cosa devo dire la verità è va bene no sì forse non è perfetto però sai grazie no imparate a dire grazie ti sta bene questo setting grazie semplicemente grazie perché non è solo un grazie detto all'altra persona che ha voluto fare un complimento e che è felice di sentirsi dire un grazie e anche una pacca sulla spalla che dai a te stesso dici ok dai sono riuscito a fare una cosa buona un po come i like che si mettono qui nella nella chat vedo cinque like grazie si comprano lavastoviglie certo anche questa è una soluzione ti compri una lavastoviglie ma poi fa rumore la lavastoviglie fa rumore magari anche lui vive da solo quanti piatti sporcherà secondo te che vivi a berlino procrastinare tipico della cultura italiana visto che siamo il meglio di noi quando siamo con l'acqua alla gola allora non lo so se tipicamente italiano non credo non credo che sia tipicamente italiano perché su questo tema mi capita di leggere e di confrontarmi anche con altre persone e la procrastinazione ho letto anche che molto diffusa tra la z generation quindi diciamo i ventenni di oggi io non ne sono del tutto sicuro nel senso che è probabile che i ventenni siano maggiormente afflitti perché è una generazione molto tecnologica questa qui però io conosco anche i miei coetanei che procrastinano quindi siamo già due generazioni prima non so se un fattore culturale gli italiani danno il meglio di sé con l'acqua alla gola può darsi anche non so generalizzare sempre molto complesso gli artisti questo posso dirtelo lavorano su deadline a scadenza c'è un artista spesso si mette in movimento quando gli si dà una scadenza no la prima dello spettacolo è il e negli ultimi settimane lo spettacolo un po complesso dal meglio di sé ma siamo tutti un po così solo che lavorare sempre sotto scadenza crea ansia non ti dà il tempo di fare una ricerca non ti dà il tempo di goderti il processo anche nel public speaking capita a volte mi è capitato di essere contattato da persone aiuto bisogno del tuo aiuto domani ho uno speech e domani ho uno speech abbastanza tardi uno deve prepararsi prima in tempi di pace devo prepararmi prima perché poi quando sono sotto stress e magari mi si sommano due o quattro deadline ditemi se non è così datemi conferma diventa complicato con lo stress fare le cose il public speaking devo prepararmi prima devo studiarlo prima e per quando eventualmente mi capiterà di fare uno speech perché in un giorno prima tre giorni prima una settimana prima sì chiaro fai una consulenza ma per i miracoli ci stiamo attrezzando come diceva qualcuno ma che bello ma anche bello sconvolgere tutto e fare almeno dei programmi naturalmente quando si può anna hai ragione hai ragione a volte la pianificazione prende un po la mano devo dire a volte necessaria magari applicarla ecco alla vita lavorativa almeno per quanto mi riguarda è necessaria devo pianificare spostamenti corsi clienti quindi devo necessariamente pianificare tra l'altro per i miei clienti utilizzo un tool che si chiama forse lo conoscete calendly ve lo consiglio anche molte funzionalità gratuite che permette al cliente o chi si interfaccia con voi di prenotare con un click l'appuntamento in base a degli slot di tempo liberi che voi avete funziona bene se usate google calendar o ai cal insomma qualcosa che si possa abbinare quindi i vostri spazi liberi corrispondono a quelli di calendly questo però ti costringe almeno mi costringe a segnare tutto sul calendario perché se non lo segno lo slot risulta libero quindi lo devo segnare lì per sul calendario così non so se sono chiaro così la prenotazione non risulta disponibile poi il tempo per le sorprese c'è sempre e se se metti non lo so esco con un amico a bere una birra non è che sto lì a mettere quello che dovrò fare tutta la serata è no se esce a bere una birra e via no non si sa quante birre ci si berrà ok secondo me è solo una questione di non voler cambiare stato per lo meno per me aspetta che mi sono perso in che senso cambiare stato lisa non ti seguo in questo se magari ce lo spieghi con un altro con un altro messaggio tor bior dice d'artista confermo quando si lavora non c'è il tempo per procrastinare o per farsi le classiche pare che normalmente ti rallenterebbero se lavora e basta sì quando poi sei sotto deadline non hai più tempo per niente la gestione del tempo anche per rispondere un po all'idea di sorpresa perché quando lavoro con le scuole i ragazzi dicono sempre sì ma se pianifico tutto mi sembra tutta una vita così schematica mi sembra di non avere tempo per niente è perfettamente il contrario se tu non gestisci il tempo il tempo gestisce te e io ho sempre fatto grandi disastri col calendario non non sono uno che è portato per questa cosa non ho il talento del calendario devo veramente mettermi ci e lavorare per per cercare di avere un calendario funzionale il vantaggio è che ho tempo ho una pianificazione a a lungo termine adesso c'è una chiesa qui a berlino come un museo dove c'è una balena gigante un'opera di un artista all'interno di questa chiesa voglio andare a vederla mi sono reso conto che ci possa andare tra due settimane e lo so può sembrare strano però vabbè così non mi sconvolge nulla non devo spostare nulla mi va bene anche andarci tra due settimane poi magari vi metto una foto qui sul canale lisa si vi space paravello ma ok siamo sul latino eh cos'è uno speech uno speech è un discorso lo speech comunemente viene chiamato discorso o lo puoi trovare in inglese sapete l'inglese adesso è la lingua ovviamente non adesso da forse da 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 un secolo la lingua del business e quindi speech è usato molto comunemente nel public speaking si definisci un filosofo no no non mi definisco un filosofo mi pongo delle domande per via del mio lavoro do importanza alle parole ecco il coaching si basa molto sulle parole si basa molto anche sulle frasi che utilizzi le frasi che utilizza il cliente per esempio ti aprono delle possibilità per delle domande esplorative interessanti ecco in questo senso però no non sono un filosofo leggo di filosofia mi piace ma non non sono assolutamente un filosofo mi sarebbe piaciuto ma chissà nella vita nel senso stato di mentalità allora vediamo dove eravamo secondo me è solo una questione di volevamo perché mi è stato per lo meno per me sì sì il cambiare la mentalità perché l'avevamo forse detto è la storia che ti racconti lisa e che ti racconti da sempre no e ti identifichi con quel personaggio che sei tu quindi a che fare con l'identità il cambio di stato no io sono sempre stato quello disordinato io personalmente carlo è sempre un po l'artistoide disordinato in ritardo sempre in ritardo adesso quando vado in italia i miei amici mi dicono ma sei diventato tedesco no ho capito il vantaggio del gestire il tempo e cerco di essere puntuale poi magari non è che ci riesce sempre ma la maggior parte delle volte sì questo mi aiuta a vivere non è meglio non mi racconto più la storia di essere un ritardatario se mi chiedi se uno puntuale ti dico sì forse speech discorso azzardo luna sei giusto anna maria ora tanto risponde dice luna lisa dice per esempio io la mattina prossimo la sveglia perché non voglio cambiare stato da dormire a sveglio procrastino a sveglia e sì ma lo so però a un certo punto uno si dovrà svegliare poi dormire bellissimo figuriamoci anche lì se hai delle cose importanti da fare se la motivazione giusta vai a letto prima ti organizzi fai le tue ore di sonno riesce a non svegliarti con grande fatica lì già ci dà un applauso luna grazie non sapevo come scriverlo dice anna maria figurati magari ho sbagliato vediamo dove l'hai scritto giusto l'ho scritto bene ok mi è andata bene anche stavolta avevi google lato avevi google lato grazie cosa hai assorbito delle abitudini tedesche allora vi dico intanto che berlino a intanto vi do una news ho acquistato una nuova ca un'altra camera per fare dei video open door e ho anche acquistato dei nuovi microfoni che sono questi qui mi sembra di fare il video dei tutorial e il road che si mette qui la valiae road no quello portatile quindi per farvi dei video outdoor così li facciamo in giro per berlino li faccio in giro per berlino vediamo un po vediamo un po il risultato non lo so avevo cominciato l'anno scorso a farli ma li facevo col telefono quindi era un macello adesso con questa camera si potranno fare cose più interessanti che cosa ho assorbito delle abitudini tedesche dicevo berlino non è propriamente germania berlino e berlino è una città internazionale è una città in veloce cambiamento velocissimo io in dieci anni l'ho vista cambiare tanto ha una popolazione molto giovane e quindi c'è di tutto a berlino però ecco qualcosa che ho imparato dai tedeschi e questa capacità di pianificare devo dire i tedeschi forse un po eccessiva però sì mi piace dei tedeschi la sincerità sono molto diretti molto molto diretti però sono molto sinceri dicono le cose sono affidabili ecco l'affidabilità adesso sto generalizzando ai ragazzi quando parliamo così facciamo delle generalizzazioni ci sono anche i tedeschi non affidabili e i tedeschi non puntuali esistono però in generale diciamo una loro caratteristica è questa secondo me vediamo dove siamo dove 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 siamo cose a subito questo è vero dice lisa se devo fare cose che mi piacciono la mattina non mi costa alzarmi presto ma vi ricordate lisa quando andavamo a scuola e c'era la gita scolastica no anzi la domenica i bambini sono incredibili non vogliono mai svegliarsi la mattina molti di loro poi la domenica che non si va a scuola si svegliano presto questa è una classica lamentela dei miei genitori amici la la mattina si svegliano presto e dice ma perché non devi andare a scuola lasciami dormire perché finalmente siccome non si va a scuola possono fare colazione giocare vedere la televisione andare fuori allora se la mattina io dico sempre se hai il problema del lunedì se ogni maledetta domenica sera tu dici o no domani è lunedì devo andare a lavorare stai facendo il lavoro sbagliato probabilmente non ti piace il tuo lavoro o lo stai facendo male io non ho il problema del lunedì perché mi piace il mio lavoro e molti di voi non avranno forse il problema del lunedì a meno che qualcuno è un parrucchiere quindi lunedì non lavora chiaramente però quello che voglio dire scherzi a parte che se ti piace quello che fai hai la grinta perché non vedi l'ora di cominciare a farlo è il contrario devi metterti i giorni liberi questo è vero se devo fare le cose grazie lisa hai hai fatto una donazione al canale grazie mille io non sapevo è la prima in assoluta sono emozionato luna dice giurin giurello su che cosa mi ha detto bene anche stavolta che non è cucolato studio poveri lingue ecco perciò non ricordo sempre tutto mi confondo non sono così costante sono una gemelli sì però e c'è anche dire che ognuno di noi ha un modo di apprendimento diverso ho fatto un episodio podcast che parla di questo ma non è quello che è andato in onda stamattina penso che quello che andrà in onda la settimana prossima che sulle diverse intelligenze ognuno di noi ha un modo di di apprendere e di vedere il mondo c'è un intelligenza matematica c'è un intelligenza quindi analogica no persone che hanno bisogno di mettere tutti i pezzi in fila uno dietro l'altro comprendere i dettagli e i meccanismi c'è un intelligenza del corpo quella dei danzatori quella degli sportivi per esempio il corpo capisce prima del del cervello delle cose non le senti a pelle è un tipo di intelligenza diversa e c'è esiste anche questo tipo di intelligenza di cui parli luna cioè studio più cose contemporaneamente quindi probabilmente adesso correggimi se sbaglio non entri nei dettagli subito almeno non all'inizio apprendi i meccanismi come chi riesce a parlare velocemente più lingue non le parla benissimo tutte però apprende i meccanismi generali e poi entra nel dettaglio io sono anche un po così mi piace apprendere la cosa in generale poi entro nel dettaglio il lavoro che sto facendo su youtube adesso dopo più di due anni ci sono entrato nel dettaglio avevo anche fatto un video dove dico che l'algoritmo è importante però se pretendi di conoscere nel dettaglio l'algoritmo che varia continuamente di youtube per avviare un canale non lo avvierai mai fai video sbaglia io li ho sbagliati tutti all'inizio stando alle regole dell'algoritmo della lunghezza per come era fatto li ho fatti col telefono nemmeno con questo con un telefono più scarso di questo all'inizio li ho fatti senza microfono poi iniziato a comprare i microfoni poi negli anni ho speso migliaia di euro devo dire perché quando cominci poi a farlo seriamente quando il gioco si fa serio vuoi dare un servizio migliore ci tieni no è il tuo canale e ti piace parlare con la tua community ti piace avere un posto bello no l'estetica è importante ma all'inizio non puoi avere tutto questo è difficile servono i contenuti non so se ho beccato il modo di di imparare di di luna lisa dice se fortunato io il problema del lunedì ce l'ho prego figura di per la donazione grazie lisa comunque lisa è il mio cane a ok io leggo lisa e ti chiamo lisa gallina perché fortemente assonante con bambina visto che la mia visto che la mia bambina io mi chiamo nello a ok nello si riesce a vivere solo di youtube allora se riesco a vivere solo di youtube assolutamente no no vi dico io guadagno pochissimo al momento da youtube non mi basta nemmeno per comprarmi l'apparecchiatura quindi no per guadagnare con youtube devi avere dei numeri molto elevati ci sono temi che si prestano di più al guadagno tipo i gamer i ragazzini che fanno i tutorial sul videogame ma addirittura fanno i coach me lo spiegava qualcuno c'è qualcuno che li paga come coach che come mentor più che altro per poter imparare a giocare bene al videogioco è un mondo al quale io sono completamente estraneo e quindi non saprei che dire in quel campo lì ecco quello è un campo dove con molto lavoro con molto lavoro si potrebbero raggiungere dei numeri elevatissimi e l'altro limite la lingua italiana nel mercato italiano è più piccolo del mercato in inglese però fare un video in inglese significa mettere una goccia in un oceano fare un libro un video in italiano significa beccare una nicchia specifica quindi i miei guadagni sono molto bassi su youtube sinceramente ma crescono cresceranno ho intenzione di portare il canale a crescere so che ci vorrà tempo adesso è più un divertimento e anche un modo per trovare i clienti molti molti clienti mi contattano perché mi hanno conosciuto su youtube quindi ecco commercialmente se vogliamo dirlo così questo è un po il senso economico del canale più che il guadagno stesso io il problema ce l'ho dal lunedì al venerdì francesco eh sì sì lo so ragazzi molti hanno mi dispiace questo problema però spesso è possibile cambiare lavoro eh non subito non è che uno debba fare un salto nel buio è chiaro ha delle spese all'affitto il mutuo la famiglia non si può fare un salto nel buio ma la flessibilità sviluppare una certa flessibilità è fondamentale anche perché un lavoro oggi non è più per sempre il posto come dice bauman già da anni cambieremo sette otto lavori in una vita io non facevo lo youtuber quando nel curriculum adesso dico content creator all'inizio mi suonava strano poi mi sono detto sì sei un content creator hai un podcast hai un canale youtube hai i tuoi corsi su udemy non so se conoscete la piattaforma udemy là ci sono sette otto miei corsi e quali sono contenuti sei un creatore di contenuti e dopo un po diventa un lavoro udemy mi dà un guadagno ecco udemy sì perché vendo molti corsi lì youtube non ancora diceva qualcuno forse ho saltato qualcuno vero nello quindi lisa devo chiamarti nello se non ricordo male sì pure tutorial su argomenti finanziari sono ben retribuiti vero il problema è che ormai si vive solo dal venerdì alla domenica pomeriggio dipende dalla vita che fai sai dipende dalla dalla vita di ognuno dal tipo di lavoro se fai teatro sabato e domenica si lavora quindi c'è poco da fare il perché vivi a berlino perché ho sempre avuto questo sogno l'ho raccontato penso nel in un episodio del podcast ho sempre avuto questo sogno di vivere all'estero da quando ero giovanissimo e poi ho iniziato a fare teatro da all'età di 21 anni professionalmente perché ho incontrato un maestro carlo formigoni e quindi la mia vita ha preso un'altra strada avevo due sogni andare all'estero e fare l'attore realizzato quello dell'attore con poi tanti sacrifici era solo l'inizio di una lunga strada l'estero è saltato poi vi parlo del 96 non c'era ryanair non c'era l'euro non c'erano i low cost non c'era facebook non c'erano i social andare all'estero significare andare al significava andare veramente all'estero non c'era questo tipo di connessione possibile ma io avevo quel sogno e poi dopo 15 anni 14 anni quel sogno è esploso e ho detto basta io voglio andare all'estero a vivere chiuso tutto mi sono licenziato da attore e sono venuto qui a berlino dieci anni fa questo per fare long story short allora vediamo se ho saltato qualcuno grande carlo grazie ti ho conosciuto tramite udemy dice anna maria 90 ho quattro dei tuoi corsi grande fa molto piacere si vanno molto bene i miei corsi su udemy sono sono felice di questo devo dire una grande soddisfazione poi molti dei molti alcuni dei miei studenti udemy sono diventati i miei clienti nel tempo mi hanno contattato in privato quindi anche quello un modo per creare un rapporto dare dai quello che puoi e da qualche parte l'universo ti ripaga carlo come al solito ci ha azzeccato in pieno vorrei cambiare lavoro è possibile ragazzi è possibile studio formazione antenne aperte public relations è possibile quanta gente conosciamo che ha cambiato lavoro lavorava in banca adesso una pizzeria non lo so qui io questa è una cosa anche che ho scoperto in germania è chiaro il mercato del lavoro tedesco è diverso da quello italiano però la capacità dei dei tedeschi soprattutto di trasformare un hobby in lavoro cioè alcuni li ho conosciuti anni fa che facevano yoga per hobby poi si sono formati sempre di più facendo corsi seminari ritiri andando in india e adesso sono nell'ambiente dello yoga insegnano yoga fanno cose fanno corsi meditazioni non lo so ma ce ne sono tanti e prima avevano un lavoro non lo so una start up da qualche altra parte ci vuole tempo noi pensiamo sempre al cambiamento al cambio di lavoro come un vendo tutto e vado a vendere le birre in un chiosco in spiaggia in brasile dove c'è il nostro amico dove c'è la nostra amica lì già che adesso mi ricordo più i nomi ragazzi perché scorrono e non è proprio così potrebbe anche esserlo però se un cambiamento si può pianificare inizia a studiare quella cosa lì scusate avevo raccontato in un podcast anni fa ho incontrato un mio amico e mi dice è un venditore e mi dice io oggi sarei all'estero anch'io perché vendeva degli oggetti legalmente non voglio fare nomi per evitare di spoilerare la persona dice però mi hanno fatto tutti i complimenti ero una fiera all'estero mi hanno fatto tutti i complimenti il mio problema è che non parlo l'inglese questo dice è successo tipo dieci anni fa una cosa del genere e quindi sono rimasto in italia ma sai io mi sarebbe piaciuto andare all'estero fare il venditore avrei guadagnato molto di più mi si sarebbe aperto un mercato mondiale con l'inglese avrei fatto carriera nell'azienda e gli ho chiesto e lo ha imparato poi l'inglese no se ci pensate bene sono passati dieci anni e lui ancora in quell'azienda in questi dieci anni avrebbe potuto impararlo l'inglese facendo dei corsi studiando dei viaggi dei tandem trovandosi la fidanzata inglese quello che volete però avrebbe potuto quell'opportunità è sempre stata lì è solo che a volte siamo troppo presi dalla nostra vita le opportunità non le vediamo ci passano davanti perché rincorriamo il tempo procrastiniamo rincorriamo il tempo arriva il venerdì ed è subito lunedì di nuovo siamo immersi nella nostra vita e perdiamo le opportunità allora vorrei cambiare lavoro nello dice io faccio l'impiegato e diciamo che mi sono adagiato e anche quello è chiaramente un fare un pro e contro il lavoro da impiegato ai suoi pro immaginiamo in questo momento della pandemia se sia un impiegato pubblico soprattutto no la sicurezza di avere uno stipendio e di avere una tredicesima di avere le ferie pagate per chi fa il libero professionista come me non esistono se guardi in ferie le ferie non me le paga nessuno la tredicesima non esiste non c'è la tredicesima e questo ti tiene in movimento perché devi pensare continuamente inventare studiare formarti ti tiene sempre un po in bilico ecco magari c'è la possibilità di fare un part time magari si può creare un hobby qualcosa che sia dopo il lavoro e però mi dia quella quella soddisfazione creare un'associazione entrare a far parte di un'associazione culturale sostenere qualcuno che fa progetti artistici non lo so ci sono delle possibilità e nello anche senza lasciare il lavoro crearsi delle passioni e le dice wow complimenti ci vuole coraggio in seguire i sogni bravo volere potere si ci vuole coraggio è vero è un processo poi non lo so ci vuole anche coraggio ragazzi a scegliersi la vicenda la vita sbagliata poi è a rimanerci dentro quindi non so però è bello devo dire bello fare quello che ti piace ecco questo lo auguro a tutti ciao carlo penso che per la maggior parte delle persone mi è compreso il problema del lunedì derivi da mancanza di organizzazione l'ultimo tuo video sulla procrastinazione penso possa aiutare sì se sei un libero professionista sì cioè se tu sei il tuo datore di lavoro e hai il problema del lunedì forse ti stai organizzando male il calendario lo so perché anch'io quando faccio questi errori poi mi ritrovo che dico no mi tocca fare la nottata perché dico devo pubblicare il podcast perché non mi sono tenuto libero il martedì se lo pubblico il mercoledì no sto imparando sto imparando lì già ecco lì io sono brasiliana carlo sì vero tutta questione di abitudini malattia e ferie la malattia ragazzi e chi la conosce la malattia vedete ci sono i ripeto i pro e contro però davvero anche la possibilità di fare delle cose per hobby e anche all'interno del lavoro di impiegato cosa posso dare di più cosa posso fare meglio lo vedete capita quando si va tipo alle poste o al comune gli impiegati sono vittima di un pensiero collettivo no quelli che lavorano al comune non fanno niente quelli che erano le poste non fanno niente che non è vero perché poi ci sono anche quelli che lavorano tantissimo e che sono gentilissimi allo sportello perché si sono dati una motivazione questo è il mio lavoro lo voglio fare al meglio e sono lì pazienti spesso anche a beccarsi gli insulti esistono ragazzi ci sono si va con un pregiudizio a volte si porta già un livello di aggressività negli uffici pubblici che non serve non voglio dire che l'efficienza è il massimo sicuramente sulla media forse si potrebbe fare di più ma non è sempre a causa dell'impiegato ci sono tanti meccanismi che noi ignoriamo e poi con la gentilezza devo dire io sempre risolto tutto in banca imposta in genere si se dipende da come tutti i rapporti no con l'impiegato non bisogna mai lavorare per lo stipendio infatti la motivazione è importante anche da impiegato sì sono pienamente d'accordo lo stipendio è quello allora mi chiedo cosa posso fare di più oggi come posso aiutare il cliente come posso velocizzare l'ufficio io parlavo anche con una in una classe con i ragazzi ho detto ciao francesco si tra un po chiudiamo e ho parlavo anche con i ragazzi dicevo perché non rendete bella l'aula no portate delle piante mettete dei vasi e poi dico se cambiamo l'aula quando ce ne andiamo la lascerete bella per quelli che vengono dopo di voi e creerete un meccanismo virtuoso perché entrare in un'aula e doversi prendere cura delle piante cura di qualcosa significa poi non buttare più la carta per terra non rompere il banco avere un ambiente verde intorno fa bene fa bene e tra l'altro il podcast di oggi parla proprio del fai da te significa avviare un meccanismo virtuoso anche in un ufficio si può fare questo le piante le comprerò io basta questo mese spendo 10 euro 5 euro 100 euro quello che è inizio a rendere bello l'ambiente di lavoro ti scriverò in privato grazie anche per questa sera grazie a te francesco grazie a te buona serata va bene ragazzi abbiamo fatto un'ora wow sono contento sono sicuro che queste dirette cresceranno e troveremo una forma una forma e una formula per renderle interessanti a me fa molto piacere incontrarvi devo dire perché youtube appunto è molto frontale non vedi nessuno se tu la telecamera la solitudine della camera ciao a tutti vado anch'io grazie ciao gianluca e vado anch'io grazie a tutti voi si rischia però anche di essere bullizzati da chi magari ha interesse a non lavorare vero lo so stream yard non ho capito che cosa intendi con stream yard sì però la vita ci sorprende anche può essere che qualcuno apprezzi che si crei un gruppo positivo ciao ragazzi buonanotte a tutti grazie alla prossima ciao anna maria ciao ragazzi stream yard per interagire ah ok sì sì in futuro ci saranno anche delle robe su google meet vediamo vediamo un po deve crescere un po la community e poi capiremo ciao ragazzi un abbraccio e ci vediamo penso mercoledì prossimo vediamo un po vediamo un po ve lo farò sapere ciao ciao